Il pret-à-porter Arno 91-92, questa settimana Alma. Capotti monocolori alla caviglia, sopra abiti e tute stretch. Linee a trapezio che ricordano gli anni 70, gli oblò e i triangoli che ricordano lo stile spaziale. Tanti stili diversi, rivisitati e corretti per ispirare la moda Alma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non solo moda, ogni domenica ore 23 su Canale 5. Per la replica, sabato ore 10.45.